questo non so chi è non è io il mio primo secondo video esatto e comunque se non lo sapete il mio nome è leggendario 06 leggendario 06 perché lui trova tantissime leggendari diglielo pure tu tantissime aspettate nata ma sai quante leggendari ha trovato lui lui ha trovato 0 leggendari ma è intossicato apporto che non ce l'ho neanche la scelola lo sono disinstallato volo dal verbo di cristallare modo indicativo tempo presente prima persona singolare prima coniugazione me sai che questo qui invece è il registro no sto sto registro commenti ma quanti ragazzi ma che direi che deve ricevere questo ho ricevuto un like questo fa il contrario di puoi ricevere posta degli like e dislike oh 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 no no ma vi faccio una pubblicità una cosa decente in questo video guarda ciao ma vi faccio una cosa molto decente in questo video in pratica qua sotto in descrizione tu sei obbligato a scrivere il link del mio canale iscrivetevi raga per favore e vedete il video ecco come sarà il mio canale che ci ha postato dove volevo registrare parecchi video comunque continuo il tuo video di merda e seguite davide fattora su instagram e su facebook e seguita questo pazzo rapper guarda che io mi chiamo profs gamer ripsonti su instagram e mi chiamo angeli felizza h e mi chiamo angeli e vi ... vi vi ... vi informo se questo si chiama angela cantora se volete ... se volete ... seguire eh mio fratello si chiama prof gamer come si chiami? si 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 chiama prof gamer ripsonti e a proposito lui è un bacio perché è un mister tecnologico questo è il robot guardate il mio computer è vecchiatissimo è degli anni 90 allora se volete comprare un libro questo qui è il migliore Assassin's Creed Unity costa quanto costa costa 30 no quanto costa ma che ne so costa 20 costa 16 euro e 91 aspetta aspetta glielo faccio vedere glielo faccio vedere ecco allora sta qua ma come fai vedere 16 euro e 91 e 91 centesimi e comunque adesso stiamo andando a mio nonno anzi stiamo questo parla del diario di Arno Vittorio che è questo qui perchè voi non lo sapete perchè chi ha il gioco lo sa guardate fatelo vedere vedetelo guardate guarda lo schermo mangio ok aspetta aspetta ce l'hai una bottiglietta d'acqua ok aspetta te no facciamo la fibba challenge e che battle challenge facciamo ci vediamo troppo ma ciao ma ciao ragazzi io voglio fare in questo momento i miei compiti no ma per questo video poi ciao ragazzi ciao ciao